Non c'è un inverno, non c'è un evento alluvionale che riguardi la città e la sua provincia in cui non compaia la parola Messina, non c'è un evento o un mese invernale che non riguardi la Sicilia, basti guardare le strade franate, le spiagge inghiottite, le coltivazioni distrutte, l'elenco dei morti. Eppure da qualche mese Messina, città che compare tra le località a più alto rischio sismico, città dove esiste un rischio idrogeologico altissimo, 37 morti tra scalette e giampilieri nel 2009, sembra pian piano scomparire dalle carte e dall'attenzione di Roma e ancora in piedi lo sbantellamento della protezione civile nazionale che al momento conta su una quarantina di tecnici, dipendenti e mezzi e su un dirigente, a determinarlo la spending review. Andiamo ai soldi stanziati con un provvedimento del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio scorso. Gli interventi riguardano gli eventi meteorologici legati allo stato di emergenza decretato nel novembre del 2018, soldi che vanno alle regioni per far fronte ai danni provocati dal maltempo, ossigeno per comuni e popolazioni. Non compare la regione Sicilia se non tra i destinatari del provvedimento, mettono a conoscenza per legge anche chi non prende il becco di un quattrino, soldi a quasi tutti, ma di Messina e della Sicilia nemmeno a parlarne. Alla Calabria vanno oltre 13 milioni e mezzo di euro, a Bolzano 240 mila euro, all'Emilia Romagna 1 milione e 680 mila euro, e ancora al Friuli Venezia Giulia 1 milione e 576 mila euro, alla Liguria ben 29 milioni, alla Lombardia 3 milioni e 749 mila euro, alla Sardegna 3 milioni e 749 mila euro, alla Toscana 8 milioni e 361 mila euro, ancora a Trento 7 milioni e 100 mila euro, al Veneto 13 milioni e 27 mila euro, alla Sicilia 0 euro. Abbiamo il sole? Quel mese di novembre è stato bello? Assolutamente no. Dalle cronache del novembre del 2018 in Sicilia risultano 12 morti e danni per centinaia di milioni di euro.